Un eroe, mister Faradi. Il film gira attorno al concetto di reputazione, anche in conseguenza ai social network. Crede che l'ingresso nelle nostre vite, appunto, dei social, abbia riscritto il concetto di reputazione? Non è che hanno scritto veramente tutto da capo, però hanno un ruolo determinante nella situazione. piccole, viene aperto, viene lavorato in modo che si possa vedere in diversi punti di vista. Invece social media fanno il contrario, un evento, un avvenimento grande viene presentato in piccole dosi con piccole informazioni, esattamente il contrario. Chi sta intorno a Rahim, diciamo, brilla di luce propria riflettendo appunto quella del protagonista, che poi questi personaggi sono gli stessi che lo abbandonano appena non è più conveniente stargli accanto, quando la situazione cambia. Quindi le chiedo, quello che critica lei nel film è una sorta di buonismo di facciata? Non tutti, ma una parte delle persone che circondano Rahim so che di questa forma di buonismo che ha qualcosa che guardano comunque ai loro interessi, come se dovessero avere qualche vantaggio da quello che gli sta succedendo. Insomma, nella narrazione un personaggio molto importante è la compagna di Rahim, sembra essere l'unica a credere in lui. Appunto è un personaggio nevralgico, me lo può raccontare? No, non è un po' di spagnolo. Le chiedo. Nel video tu hai cosa che mi raccontare prima, è un solo, non è un film che mi rende è un film che affiare osservato, questa è un film che ha giusto, quindi è uno di gradoere della sinistra, ma in questo film che nuestros film è un film, è un film che stoptato, è un film che fa solo, è una storia Kovacca, beh a parte delle, è un film che sta effettivamente stavo farTra, però è un film che sta grazie mille grazie per il suo tempo